Allora mister, un detto dice chi ben comincia a metà dell'opera, ecco direi che oggi per voi è veramente indicato. Sì, effettivamente sì, eravamo un po' tesi per la prima di campionato, però effettivamente i ragazzi hanno dimostrato il valore che hanno e che hanno fatto durante tutti gli allenamenti e quindi siamo partiti bene, quindi speriamo bene per il proseguio. Il successo è importante in termini di gol, però ne potete fare anche altri perché è legato ovviamente tanto, ecco se sembravi subito in forma è soprattutto che la squadra cerchi sempre di giocare il pallone. Sì, sì, ma è quello che noi pretendiamo, il gioco del pallone, il giro palla è fondamentale per noi. Abbiamo faticato al primo tempo, potremmo andare un pochino meglio, però poi ci siamo rifatti nel secondo e meglio così, va bene così. Dopo questi primi 70 minuti forse è un po' presto per parlare gli obiettivi, però secondo lei questa squadra dove può arrivare? Noi adesso puntiamo alla salvezza, poi vedremo quello che può fare la squadra, le potenzialità ce l'ha, quindi vedremo con il proseguo del campionato.